Ok, vai vai, azione Buongiorno Mi emoziono un po' la prima cosa che ho fatto la televisione italiana Nome? Giulia Nome? La madre di Santese No Cosa fai nella vita? Io studio Sto cercando lavoro attualmente Quindi ho visto questo sito Nostro annuncio Ho pensato che magari mi sono fatta almeno Cosa dico? Alzare la voce? La voce, eh Mi sarò la voce spesso per lavoro Dove vive? Ci racconti qualcosa? È una storia Comunque Adesso mi ha fatto un bel appartamento Sì, è il mio centro È abbastanza bello Ecco Avete ancora delle domande? O posso già andare? Cosa ne pensa della nostra produzione? Alla produzione? Da dire la vita ne conosco ancora poco Ma Mi piace studiare Quindi vedo un po' di cose E' piaciuta la prima puntata di Blinded Devil? Tantissima Sì Mi vedo già Grazie 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 Aspetto la telefonata, sì? Sì A presto Sì, sapete il mio cellulare? Come lo dico adesso Sì, sì Abbiamo i contatti Grazie mille Bene Sì, conto Sì